Ragazzi, un grosso in bocca al lupo di cuore per Willow Football, il torneo del presente ma anche del futuro. Lo stadio è meraviglioso, tante squadre, entusiasmo, la voglia di divertirsi, di confrontarsi, di vincere, di sbagliare, di crescere. Onorate il calcio, dello sport più bello del mondo, divertitevi, abbandonatevi al piacere della condivisione del gruppo, della squadra, ambite sempre la vittoria ma lasciatevi e portate dentro l'amore che abbiamo per il calcio. Un abbraccio da Lela Adani e in bocca al lupo, Willow Football.